E' non solo bellissima, ma io l'ho detto prima, mentre vedevamo il suo videoclip, che veramente riesce a trasformarsi, perché con i capelli su, con la coda, sembra una ragazzina, una quindicenne, poi vedi la donna fatale, questa devo dire, posso dire che è in onore di buon pomeriggio, fatalissima, fatalissima, bellissimo colore. Due sorelline? Stanno dicendo che potremmo essere due sorelle? Che dici? Non sarebbe male. Non sarebbe male, io però quasi quasi adesso, per i sera intanto mi sa, tranquillamente ha cominciato a vedere gente che gli dava proprio baci da tutte le parti, e diceva, ma non è possibile, lei ama l'Italia, ma credo che da domani sera, da oggi, da ieri sera, l'ami ancora di più. Grazie Lorena, perché magari se vuol dire qualcosa a Maria, riusciamo a capirci meglio. Sei stata felice di questo incontro? Molto felice, molto felice. Quando hai detto questo pullman, che ti salutava, cosa hai pensato? Pensei, oh, ci sono così italiani, e oggi in la mattina mi llevi una sorpresa, ma grande. Allora, vuole raccontare un aneddoto? Questa mattina gli è successa una cosa molto speciale, molto impressionata dagli italiani, non solo per i baci, dagli autobus, ma anche per una situazione che è successa questa mattina. Che ti è successo stamani? Che ti è successo? Questa mattina, oggi in la mattina, pensi, Estos italiani, oh, Dio mio, a le 7 della mattina, apre la mia porta, nell'hotel, e un... Cameriere. Un cameriere, con tre caffè e acqua minerale. Tre. Allora, lei è rimasta molto impressionata, perché dice, mamma mia, questi italiani sono incredibili. Che ruoli. Lei è stata da sola in questa stanza, sono entrati alle 7 del mattino, con tre caffè espresso e una bottiglia di acqua minerale, solo per lei, quindi lei è rimasta impressionata. Forse volevano che tu prendessi tanto caffè in modo da essere il segno. Incredibile. No, grazie. Allora, io vorrei sapere, sì, posso passare la linea? Ma c'è un promo, c'è un promo. C'è un promo? Vediamolo, è una sorpresa, vediamolo insieme. Il pubblico italiano, dimmi, Lorena. Sì, no, voleva aggiungere una cosa, voleva dire che in questa nuova telenovela che sta girando a Messico, c'è proprio lui, è il protagonista insieme a lei. Hai capito? Buono, buono. Noi speriamo, speriamo ben presto di averla, ma chissà, mi sa proprio di sì, di averla qui in Italia, perché tutte loro e tutte le amiche che sono a casa aspettano questa coppia. Beh, sapete che anche lui, eh? No, scusate un attimo. Beh, bella coppia, eh? Bella, eh? Benissimo. Grazie. Grazie veramente della tua simpatia. Grazie. Non aspettare domani a tornare in Italia. Non aspettare domani, va bene? Ti puoi farlo oggi. Lei dice di non aspettare. E gli ha detto che non è spero stamagnana per regressare a Italia. Ah, claro. Claro. D'accordo. D'accordo? Va bene, va bene. Ti lascio al tuo pubblico italiano e buon pomeriggio, naturalmente. Lunedì 13.40. Grazie, ragazzi. Sì, domani, è vero, domani. Lorena, vieni che la lasciamo sola, a te e Maria. Grazie. 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 Grazie.